Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e bentornati ProGamers Eeeh Vi ricordo di lasciare un video Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e bentornati E' bella Oggi sono qui con Pietro Bella In un nuovo vlog Del sabato Vlog è del sabato e quindi lo mettiamo in domenica Lo mettiamo la domenica E oggi siamo qui come vi ho già detto in un vlog Se non l'avete capito dal titolo Se non lo vedete dal titolo non spieghiamo vlog Eh si Spieghiamo vlog Spieghiamo vlog Vloh Bene a parte le cavolate Questa settimana inizieremo con Happy Epidemic Cioè un Demi felice Che è un gioco molto nuovo Per molto molto bello Eeeh Quale Cioè costa più di 70 euro Noi abbiamo big money Quindi ce lo siamo permessi Poi i primi 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 Cioè la serie di minecraft Del canale Eeeh 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 E poi ovviamente la domenica Con il classico vlog Del sabato Sì Allora Bene Eeeh Direi che per questo episodio del vlog è tutto E mi ricordo di lasciare un mi piace sul canale di PewDiePie Eeeh Iscriversi al suo canale Non a questo perché questo qua è una merda Eeeh Bene Ovviamente scherzo Iscriveteci qui Iscriveteci qua Eeeh Ovviamente iscrivetevi voi al nostro canale Che se no vi veniamo a casa vostra E vi mettiamo Vi maltrattiamo con un Demi Eeeh 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 Bebe bello Che the fuck But you know Bobby Joe Listen up sister Pull up on the chica dance Eeeh 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 Eeeh